Con questo video tutorial vi spieghiamo come aggiungere gli amici sul gruppo Facebook Erbe, aromatiche e spezie Una volta che siete sulla pagina principale del gruppo, che potete vedere qui sopra impressa Vedete sulla destra, ci sono, sulla destra vedete aggiungi membri Una schermata, una schermata aggiungi membri Li potete aggiungere, in basso avete tutti i membri suggeriti Oppure se volete, in alto, potete trovare lo spazio aggiungi membri Dove potete mettere il nome o basta semplicemente l'iniziale della persona che volete aggiungere Cliccate quindi su aggiungi E il gioco è fatto, i vostri amici sono sul gruppo I vostri amici ricevono una notifica che fanno parte del gruppo Quindi se non sono interessati possono uscire Altrimenti sono all'interno del gruppo e ne seguono i lavori Grazie, buonasera